ciao ragazzi siamo tornati con gli incarichi storia di forte siamo arrivati alla parte 2 assalto al pozzo dobbiamo raccogliere una scheda della sorveglianza dalle guardie di posto procuro posso pure qui in basso alla mappa le guardie sono un po ovunque in giro killandoli dovrebbero dropparci una schedina mentre ne cerchiamo una like mi raccomando sul portare canale passino subito ecco la tua la schedina si raccoglie e la missione è fatta ci buschiamo i nostri 15.000 xp e procediamo poi si procediamo con le altre con le altre messe la stanno attento al bosco appena ci vede ci scimmata like ancora una volta se non l'avete è messo subito il codice creatore è sempre attivo e se lo usate mi raccomando taggatemi sui social titolati in descrizione e ciao